benvenuti cari amici di mobile os stiamo qui con il meizu mx4 stiamo andando a fare un video volutamente lo sto facendo in un momento un po difficile per lui siamo alle 4 e mezza di pomeriggio ma il cielo comincia già a scendere un pochino anzi il cielo il sole vediamo quindi un po come si comporta con condizioni luminose magari un po più proibitive un po più difficili per lui ma devo dire sostanzialmente bene un po di difficoltà forse nell'adattamento alla luce proviamo anche a chiudere su qualcosa di più ravvicinato ripeto siamo in full hd un po di difficoltà a mettere a fuoco ecco ora ce l'ha fatta ora proveremo anche il 4k